ok, ma chi mi ha sai? oh c'è ragazzi, mi ha avuto giù di tutto 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 guarda vado oh c***a no, stai in mezzo siiii è fuori, è fuori wow che botta l'hai ripreso te almeno siiii porca troia che palle dopo cambio, allora dopo mi metto un c***o di davanti è riuscita del pilota del vento hai visto il fumo ah no non c***o di davanti e fa vedere un po' così lo metto anch'io nel video dovrete un po' guardate un po' per esposione pensate che siamo iniziali non stai uccido adesso d'orico si è messo davanti proprio dal punto giusto montana che botta un po' di un c***o o posso partiti un uomo no no che che è un po' di uno che che è che non Grazie a tutti. 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 Dove vai? Ha visto un buco? Sei infilato. Porca puttata che fiammate che ha sparato. Mi ha preferito apparticciare la margherite. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Posizione reale. Vediamo dove sarà specialmente strato. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aspogliate! Si è girato! Si è girato! Si è girato! Si è girato! E' in fondo di lei, perché cosa con i libbi del levante? Non lo viesco! Quelle bella sono? Che ne tiene su? Uuuuh! Veni, veni! Vieni, veni, veni... Prito! Vieni, veni! Vieni, veni... Lo abbiamo fatto in 4. Lo sono portati. Quindi loaggio, loaggio, pensate che lui, sì, lui, sì, lui, sì. La difficoltà la sta risponderando inoltre perché non mi vuole la partita di stretta è bene ma lasciamo lì la gara. Andiamo davanti. Andiamo a vedere Oh, madonna, com'è caduto il mare! Porco cane, sei andato a ciò mare! E' passato, è il carro rosso. Servino dietro, sta cercando di tenere il passo di Bribos, ma non è abbastanza vicino, se vogliamo, finiti Adam. Ora è passato, è la fine! Alla prossima è la pista di Peter Nicodenten. Nicodenten! Dio! Wow! Vediamo in Manegri che cosa ci va con Ferreri. Dove è Cobra, non si vieno? Alla prossima! Alla prossima! la 3 testa del record della pista quindi il seno ovviamente e andiamo a andare se ce la fa se andiamo a fare i record della pista andiamo a vedere Non è nemmeno messo! Tu hai toccato, è arrivato proprio interno qua io, eh! la necca 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 ok puoi dire il finale vai eee si guarda 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 va eee e e e e che e e e e e Madonna, eh, vabbè, eh, vabbè, dai, retro, bravo! Noz, vediamo se ci ho acchiappato con 100 lecce, noz, Pedro, sparo così, senza vedere il numero, ma calcolò le versioni e voi, no, è la prima volta che viene qua, quindi. Vabbè, 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 vabbè! Vediamo un po' che è messo, Mandela era quinto, adesso, chiaramente, c'è adesso, ma vissi vedere la prova di René Mandela, un'opinione che abbiamo mirato tante volte, ma ne, che sera, bravo! E' partito il copreruota! Vabbè, 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 vabbè! Vabbè, 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 vabbè! Come da questa città era pensavo potesse essere il nostro peggato, d'arge, ma non c'è, ma non c'è. Grazie a tutti. Come si è messo qui a lato? 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 Non muovano mai mai un metro? Che mi ha piaciuto sto... ...diamo più vendere 60 e 44. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, sì? In effetti? E va bene, adesso non c'è più. E va bene, adesso non c'è più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' sempre esagerato. Grazie a tutti. Porco, troia! Grazie a tutti. 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 Occhio a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 la fatta della grande cosa ieri e portare via così una finale la fatta della fatta della fatta la fatta della fatta la fatta della 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 fatta della fatta della fatta la fatta della fatta della fatta la fatta della fatta della fatta della fatta la 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 fatta della fatta della fatta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.